Vomito e urina dappertutto, questa è la segnalazione dei residenti del centro storico di Alcamo che dipingono un quadro assolutamente degradante del cuore pulsante della città. Denunce che da sempre vengono fatte, con particolare riferimento alla movida selvaggia, accompagnate anche da atti di vandalismo e di microcriminalità in genere. Ora, anche su questo versante, le forze dell'ordine si stanno muovendo, con l'intento di contrastare questo terribile costume che rende davvero invivibile il centro storico alcamese, specie nelle ore notturne del fine settimana. I carabinieri hanno deciso, nello scorso fine settimana, di mescolarsi con abiti in borghese alla folla in occasione della notte bianca e non sono mancate le sorprese. Amare soprattutto per chi è stato trovato ad urinare davanti ai portoni e alle mura perimetrali delle case. I due dovranno adesso pagare un conto salatissimo per atti osceni in luogo pubblico. Due giovani di 22 e 25 anni, oltretutto sospettati di essere ubriachi e fradici, sono stati multati con una maxi-sanzione. Dovranno pagare a testa ben 10.000 euro, che triplicherà se i ragazzi non pagheranno quanto dovuto entro cinque giorni e a quel punto dovrebbero sborsare 30.000 euro alla prefettura di Trapani. I due pagano il conto salatissimo della recente depenalizzazione di questo tipo di reato. Infatti in passato si doveva affrontare un processo con tanto di denuncia penale, ora invece si paga una elevatissima multa. I militari dell'arma, guidati dal capitano Giulio Pisani, hanno effettuato delle vere e proprie ronde durante la sarata e fino a notte fonda, dopo aver raccolto il grido d'allarme dei tantissimi residenti del centro storico, specie di piazza Ciullo. I militari, mimetizzati da veri e propri avventori tra la folla, hanno osservato i comportamenti più sospetti e si sono concentrati sul 22enne e 25enne. Una volta seguiti hanno scoperto che si erano appartati in una strada laterale al corso 6 aprile per fare pipì. Trovate in flagrante, sono stati identificati e portati in caserma, dove gli è stata combinata la maximulta. La compagnia di Alcamo inaugura così un nuovo servizio di controllo che avrà specifiche attenzioni al contrasto al degrado urbano, attività che si affianca poi a tutte le altre già da tempo in atto, con particolare attenzione al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti al trapiaga di un Alcamo dove la droga scorre a fiumi.